E a me piace fare le compilations. Fa lavoro in un negozio di dischi. E che fa il consulente musicale? Facciamo conoscere ancora più musica e guadagniamo ancora più soldi. E chi cazzo è che si compra 5 miliardi di lire in cassette Vergine? Rischi zero e diventiamo ricchi. Noi e voi. Mi sbatte, galera, per quanto faccia il città? Il giro d'affare è diventato importante. Quanti fratelli siete? Non siamo due, siamo tre. Mi dico i tre, Mick Zed, e vai a Harry. Tecnicamente tutti e tre. Soprattutto se parliamo in termini societari. Maggio, Harry, di cazzo è? E lui, io no. Pixel 5, Andy! Tieni un modo strano di fare il DJ? Mi piace. Siete la prima etichetta discografica in Italia. Questi ci vogliono fare la guerra. E noi ci prepariamo a vincerle, mo' la guerra. Io volevo solo fare il DJ. Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria, acqua nel deserto, gloria. Siete la prima etichetta discografica in Italia.